La grande gidulia. Teledurruti, oggi è il 27 giugno 2013 e sono a Parigi a casa di Georges Wolensky, in italiano lo chiamano Wolensky, danno quest'altra. E Wolensky è un grande narratore, dire a fumetti è riduttivo, per semplificare molto spesso si dice che Wolensky sia sesso e politica. In realtà è molto di più, riesce a mettere insieme ironia, sarcasmo e anche incanto poetico. E Georges Wolensky quest'anno è il vincitore del premio Durruti e sono venuto a portargli la bandiera di situazionismo e libertà che mostra fra l'altro un'immagine che lui stesso ha disegnato. Grazie mille, grazie mille, è molto bella questa bandiera. E molti hanno detto che questo disegno anticipa le femmine ucraine. Ah sì, sì, è vero, non l'avevo pensato. Giorgio, sei contento che sia venuto qui il cacacazzi italiano a farti dono di questo premio? Sicuro, sicuro, sicuro che sono molto contento e poi la bandiera è molto bella e le femmine le ho incontrato. Hai visto che le tre hanno stato liberate questo giorno, le tre che erano in Tunisia? Perché situazionismo e libertà è un movimento che io ho messo al mondo e discende da Teledurruti. E una delle cose che più mi rende felice è che sul simbolo di Teledurruti ci sia un'immagine disegnata da te, sul simbolo di situazionismo e libertà. Quindi grazie, Giorgio, per tutto quello che è, per la tua vitalità intellettuale. In Italia non esiste più una speranza di una sinistra, di una forza di cambiamento. In Francia esiste. Eh sì, un po' faibli. Non so come ciò che succede. Non so come un po' faibli. Vraiment, non so come ne posso riconoscere l'avenir, ma di tutte le revedere non ho più più avanti. Allora, non so come un po' faibli. Non c'è un po' faibli. Un po' faibli. Un po' faibli. Grazie. C'è 78 anni. Il giorno? 29. 29. Allora, sabato, Georges compie 79 anni, l'età più bella, 78, fra l'altro Georges è anche in parte d'origine italiana e quindi insomma quando ha dovuto dire che voleva bene a sua figlia le ha detto ti amo in italiano. Grazie Georges, grazie a te, felici che il premio quest'anno sia andato a te. Te le due ruti.